a pace manchester flumini è il quarto di finale della vamos a marid serie a1 chi vincerà sfiderà in semifinale pubblica group parte forte manchester flumini che arriva con il tocco sfortunato di con giotto rete il vantaggio di manchester flumini risponde però con questo diagonale il pareggio immediato di spano 11 botta risposta di apache però va vicino con questo diagonale il manchester flumini con questo tiro quindi manchester flumini che prova il 2 a 1 ci prova anche di punizione a pace gara molto intensa ancora pace con questo tiro respinto dal portiere che è l'ultima emozione di questo primo tempo scoppiettante 1 a 1 ma tante azioni ma tante azioni da rete inizia il secondo tempo vediamo come sarà questo secondo tempo a pace prova con questo passaggio nessuno si trova puntuale in in area in avanti il manchester flumini che provano con questo tiro respinto vicino al 2 a 1 ancora in avanti manchester flumini e trovano con questo gol di pancia il 2 a 1 il raddoppio di cabras quindi 2 a 1 2 a 1 per manchester flumini che fa anche il 3 a 1 con questo gol di furbizia il 3 a 1 afferma tamburini quindi si mette bene le cose per manchester flumini però non ci sta pace con questa punizione alto però il 3 a 2 però tutto solo tutto solo e arriva anche il 4 a 1 la chiude la chiude del logo 4 a 1 che diventa anche cinque cinquina ha segnato ruggeri e finisce qua marcia se flumini batte 5 a 1 a pace e va in semifinale contro pubblica group grazie mille Grazie.